Si è stato un incontro positivo, l'abbiamo voluto con forza e direi che c'è disponibilità al dialogo anche per un ingresso in maniera importante da parte del Governo, c'è questa condizione atipica in queste Olimpiadi dove manca la presenza dello Stato e penso e immagino che il Presidente del Consiglio abbia voluto assolutamente tenere presente le nostre richieste e spero che ne consegua poi un provvedimento per l'ingresso. Questo a noi servirebbe molto sia per un fatto estetico ma anche per un fatto di operatività. Ma qui non è una questione di soldi, è una questione di operatività e penso che in una partita così importante come quella che darà visibilità internazionale e andrà a intercettare almeno 3 miliardi e mezzo di persone nel mondo, è giusto che lo Stato, che il Governo sia presente assolutamente nei gangli della Governance, delle Olimpiadi e condivida con noi tutte le strategie.